Voglia di lottare, di mettere in campo tutta la sua energia, lo ha già dimostrato nella prima partita Dermacu che si è presentato in sala stampa dopo il gol messo a segno contro la Cremonese ora un'altra sfida particolare contro il suo passato, il Cosenza ma con la voglia di essere ancora protagonista così come ha fatto nel corso dei due anni in cui ha conquistato una promozione e una storica salvezza Per un saluto di Lecce non ci ho pensato più di tanto, nel senso che per me non è assolutamente una piazza che merita di essere l'ora, c'è un progetto comunque importante, sono molto contento di farmi a parte e sì, voi come direttore ci siamo sentiti e non è stato molto importante parlare con lui perché è una persona che ha una certa esperienza e essere voluto per me ha significato tanto essere voluto in questa squadra, dal direttore, in questo ambiente, in questa piazza Noi dobbiamo pensare a dare, sembra scontato dirlo, ma dobbiamo dare il massimo ogni singolo annuamento o ogni partita per raccogliere il più possibile, poi tra qualche mese a vedere a che punto siamo e sicuramente non ci aiuta, non aiuta piazze come Lecce, come comunque piazze calde dove tifo esigente non aiuta al fatto di non avere ai tifosi sui spalti, perché già mercoledì sera ci avrebbero dato una grossa mano, anche qualche miliardi di tifosi di più, comunque si fanno sentire, ti applaudono, ti sostengono gli ultimi minuti, sono sicuro che l'avremo vinta Grazie a tutti